Maltempo, Teramo e Labruzzo sotto la neve. Mugugne e critiche per il ghiaccio. Sanità, la ASL di Teramo si ritrova senza direttore sanitario, D'Alfonso lo scippa a Fagnano. Immondizia, i rifiuti teramani finiranno nella discarica a CIR su il comune, prevede un risparmio. Provincia di Sabatino fa bilanci e annuncia il dopo Becci, il nuovo segretario arriva dalla campagna. A per i street brulee, l'epifania, le feste non le porta via, nasce anche un comitato eventi a Teramo. E per lo sport e calcio, il Teramo accaccia di una mezzala, ma l'imperativo è vendere. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Continua lo stato di allerta nella regione a causa delle difficili condizioni meteo. Gli uffici regionali della protezione civile comunicano che sono previste anche nelle prossime ore precipitazioni a carattere nevoso moderate sulla costa e abbondanti nelle zone interne, in particolare nell'Alto Sangro e nella Valle Peligna. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione con estese gelate su tutto l'Abruzzo. Tutti i tratti autostradali abruzzesi potrebbero essere interessati da neve o ghiaccio. Dalle prime ore di questa mattina, ha spiegato l'assessore alla protezione civile Mario Mazzocca, l'assessore regionale, abbiamo provveduto ad effettuare una ricognizione capillare sui territori delle quattro province. A Teramo e Pescara la situazione, ha detto Mazzocca, è sostanzialmente sotto controllo, anche se in alcune località, come Rocca Caramanico e Farindola, la soglia di attenzione resta alta a causa delle abbondanti nevicate della scorsa notte. A Chieti situazioni delicate nelle zone del versante della Maiella, dove però si stanno seguendo tutte le procedure e le modalità adeguate per fronteggiare eventuali difficoltà. Allo stesso modo nell'Alto Aquilano, interessato da precipitazioni diffuse. Il quantitativo di sale e antighiaccio per eccellenza in quanto abbassa il punto di congelamento della neve, che ha detto ancora Mazzocca, messo a disposizione per ciascuna provincia, dovrebbe evitare l'aggravarsi delle criticità. E adesso nel servizio, in questo nostro primo servizio, vediamo nel dettaglio la situazione a Teramo e in provincia. Prevista, puntuale, abbondante al punto giusto. E come è prevedibile per una città, fastidiosa e problematica. La pausa di circa tre ore nella nevicata, che anche questa mattina ha fatto svegliare i terramani sotto una decina di centimetri di coltre bianca, che sono diventati anche 15-20 sulle zone di collina, ha aggravato una situazione già problematica, perché il ghiaccio ha reso impraticabili le strade e marciapiedi. Le segnalazioni arrivano da più parti, soprattutto nel capoluogo, dai quartieri in alto come Colle Atterrato e Colle Parco, Villa Mosca e Putignano, dalle frazioni come Scapriano, Villa Ripa, Magnanella. L'assessorato alla protezione civile annuncia che in poche ore della nottata sono stati bruciati cento quintali di sale, ma è altrettanto chiaro nell'ammettere che non dispone di mezzi piccoli, come i bobcat, utili per pulire o spargere antighiaccio in città. Dalla tarda mattina ha ripreso a nevicare, e le previsioni confermano la tendenza alla convivenza con questa situazione climatica, almeno per le prossime 24 ore. Nevica e ghiaccia, con temperature costantemente tra i meno 2 e i meno 3 gradi. Quello che viene segnalato maggiormente è la situazione paradossale che si verifica nei territori al confine tra la competenza provinciale e quella comunale. La conseguenza è una parte pulita, l'altra innevata. Un esempio della scarsa prevenzione attuata alla vigilia dell'alerta neve è la strada provinciale per i prati di Tivo, che da oggi festeggia la totale apertura degli impianti sciistici. Nevica intensamente, il manto nevoso ha raggiunto circa 60 cm, ma la strada è ghiacciata. Non aver sparso sale nelle ore precedenti da nevicata, e il passaggio dei mezzi spalaneve a neve caduta ha fatto sì che adesso il manto è compattato e rende difficile la percorribilità anche dei mezzi dotati di dispositivi antineve. La neve ha risparmiato la costa, dove da ieri sera tra Martinsicuro e Silvi sono stati notati soltanto fiocchi sporadici e al suolo non c'è nulla. Continua a nevicare da stanotte sull'intera area frentana. Nonostante l'aumento ovunque del manto nevoso, non si registrano particolari disagi e la viabilità e le emergenze a persone. A Lanciano la neve ha raggiunto 50 cm in centro e circa 70 cm nell'area nord di Marcianese. Il Comune ha messo in campo 14 mezzi tra spargi sale e spazzaneve. Ma torniamo a Teramo, la macchina operativa del Comune di Teramo, come ha dichiarato l'assessore Rudy Di Stefano, nonostante le risorse ridotte sta affrontando il problema neve. Sono all'opera i mezzi comunali alcuni delle ditte private ma in numero nettamente inferiore rispetto agli altri anni. Vediamo. Ecco 200 quintali di sale che il Comune di Teramo utilizzerà in queste ore per contrastare soprattutto il ghiaccio sulle strade del territorio comunale. Nelle prossime ore tra l'altro è previsto un peggioramento del tempo? Sì, ieri di sale ne erano 300, diciamo che 100 quintali sono andati via già stanotte per garantire almeno la viabilità principale perché fortunatamente queste condizioni meteo sono arrivati in un momento di festa con le scuole chiuse. Quindi sicuramente non è una situazione di emergenza. Chiaramente quando il tempo è così un po' di disagio ci sta però sicuramente in questo periodo è più sopportabile. Tanto è vero che pure noi con gli interventi nostri ci siamo limitati a utilizzare per esempio le ditte esterne proprio dove era essenziale in qualche frazione un po' più alta dove di neve ne è scesa di più ma stiamo cercando pure noi di limitare il più possibile le spese chiaramente. Dove sono stati i problemi maggiori? Chiaramente dove è più alto tipo per esempio Garrano, Villarupo, Villagesso e infatti in queste zone poi abbiamo deciso in mattinata questa mattina intorno alle 6, 5 e mezza alle 6 di far uscire anche qualche mezzo di qualche ditta esterna. Comunque era una nevicata annunciata già da giorni dove abbiamo fatto una conferenza tempo fa anche per dar modo più che altro ai cittadini di equipaggiarsi perché non è una nevicata all'improvviso è da chiarire che comunque con una macchina ben equipaggiata si gira ovunque, cioè situazioni di emergenza non le troviamo è chiaro, ripeto, che condizioni così non si può pensare che non si crei nemmeno un minimo disagio qualche disagio ci sta noi stiamo cercando con le opere nostre e col mezzo nostro di intervenire dappertutto però come prevede il piano di protezione di qualsiasi piano di protezione civile va garantita soprattutto la viabilità principale e diciamo il passaggio dei mezzi pubblici quello abbiamo fatto stanotte e adesso ci stiamo dedicando a intervenire anche nelle altre zone Insieme alla neve è arrivato anche il grande freddo e come dicevamo il problema principale sarà il ghiaccio sulle strade ma questo sale vi basterà? Sì, il problema più che altro è quello perché alla fine con la neve basta passare con lo spazzaneve insomma si risolve mentre il ghiaccio oltre ad essere chiaramente più pericoloso anche per chi si mette in viaggio ci porta a consumare dei grossi quantitativi di sale però noi ricorderemo l'esperienza fatta 3-4 anni fa dove abbiamo avuto neve e ghiaccio quasi per 15 giorni di fila non siamo andati in difficoltà là quindi non penso che ci andremo questa volta E anche all'Aquila ovviamente ha nevicato abbondantemente la città si è svegliata ricoperta da un'abbondante coltre bianca pochi comunque disagi alla circolazione nelle strade principali già battute dai mezzi spazzaneve e spargisale qualche difficoltà in più registrata nelle tante frazioni del capoluogo aquilano specialmente quelle più in quota il sole a metà mattinata comunque ha fatto capolino cominciando a sciogliere leggermente la neve poi il pericolo ovviamente in serata quando le temperature scenderanno ulteriormente sarà il ghiaccio due tir di traverso in tre giorni e un po' troppo e quello che è successo lunedì scorso è questa mattina all'innesto di Floriano della Pedemontana inaugurata la settimana scorsa si poteva ipotizzare che il budello che dalla strada provinciale conduce alla rotonda che emette nella Pedemontana avrebbe creato problemi soprattutto ai mezzi pesanti e questo puntualmente si è verificato oggi ci si è messa anche la neve a rendere critico il passaggio che è davvero troppo stretto e scomodo per un traffico veicolare sostenuto cambiamo argomento ci occupiamo di sanità l'asle di Teramo va a caccia di un nuovo direttore sanitario dopo lo scippo di Angelo Muraglia quello individuato dal manager Roberto Fagnano nominato dal governatore D'Alfonso al Dipartimento Sanità e Welfare della Regione l'improvvisa defezione mette in crisi anche l'immissione in ruolo dei sei nuovi primari Teramani il servizio da due direttori sanitari in contemporanea a nemmeno uno è la difficile situazione in cui versa da ieri la asle di Teramo il regalo di Natale della Regione Abruzzo al direttore generale Roberto Fagnano si chiama Angelo Muraglia è stato direttore sanitario per 15 giorni anzi non è mai entrato in servizio perché avrebbe dovuto farlo da dopodomani primo gennaio e invece tornerà a sedersi in un ufficio della Regione perché D'Alfonso lo ha nominato direttore del Dipartimento della Sanità e del Welfare scippandolo a Fagnano che ha corso lo stesso rischio ritrovarsi al posto di Muraglia e non più direttore generale dell'azienda Teramana essendo loro due gli unici papabili a quel ruolo dopo la riorganizzazione di dipartimenti voluta dal nuovo governatore e la rinuncia di chi era stato già nominato Giovanni Farinella uomo KPMG individuato da Chiodi nella sua consigliatura è piaciuto anche all'assessore regionale alla Sanità Paolucci dunque all'AS di Teramo ricomincia la caccia all'uomo è un nominativo cui affidare un incarico poco retribuito e scomodo per cui in un passato recente che sembrava andato già in archivio c'è stata molta contrapposizione anche all'interno della stessa maggioranza di governo regionale la situazione non è di semplice gestione per Fagnano perché l'impossibilità di Muraglia blocca anche l'immissione nei ruoli dei sei primari presentati appena lo scorso 22 dicembre perché i contratti siano efficaci serve la firma che il direttore sanitario avrebbe apposto appunto con il nuovo anno non solo potrebbero risentirne anche i concorsi da direttore di unità operativa complessa come quello di radiologia su tutti di cui sono state formate le commissioni ma che potrebbero andare in scadenza un salsivestro con i fiocchi per la sanità teramana che non ha motivo di festeggiare anche perché nelle intenzioni del direttore generale non c'è nemmeno stavolta forse l'idea di individuare nel ruolo che dovrebbe essere di Muraglia un medico locale Pasquale Papa Campano il nuovo segretario generale della provincia di Teramo prende il posto della dottoressa Becci lo ha reso noto il presidente di Sabatino tracciando un mini bilancio del 2014 relativo ai due mesi di lavoro intanto il presidente della provincia di Teramo ha assicurato che nonostante la riduzione del 50% dei fondi destinati al personale nessun dipendente sarà lasciato al proprio destino sentiamo riduzione dei costi dell'amministrazione provinciale di Teramo senza lasciare a piedi dipendenti nuovo statuto approvato all'unanimità e la nomina di Pasquale Papa Campano nuovo segretario dell'ente al posto della Becci è in estrema sintesi il bilancio di fine anno ma in sostanza di due mesi di lavoro del presidente della provincia Renzo di Sabatino sono stati due mesi molto pieni molto impegnativi anche molto stimolanti e affascinanti perché affascinanti perché prendere un ente in un momento in cui c'è una profonda trasformazione una radicale trasformazione delle istituzioni dell'assetto istituzionale di questo paese anche di questa regione è sicuramente un compito impegnativo che però noi stiamo portando avanti secondo quelle che sono ormai le esigenze e le richieste che tutti ci avanzano che è quello di contenimento dei costi quello di avere una pubblica amministrazione più efficiente quella di lavorare cercare di lavorare per il bene delle persone che si amministrano e per dare al territorio un ente che sia utile sicuramente più utile rispetto al passato e a proposto di tagli quali sono i numeri? Noi abbiamo lavorato in due mesi riducendo dei costi di circa a regime ovviamente di oltre un milione di euro che naturalmente non sono sufficienti per coprire i tagli e il contributo che le province devono dare allo Stato è un anno che però si chiude con una spada di Damocle sulla testa dei dipendenti delle province guardi l'ultima versione la versione definitiva della legge di stabilità ci dà comunque un periodo di tempo entro il quale poter procedere sia a snellire ovviamente la dotazione organica dell'ente sia a trasferire con calma le funzioni e le risorse umane alla regione al comune e anche quei processi di ricollocamento del personale non lo chiamo in esubero però del personale che non rientra nel costo complessivo come ci è stato imposto che insomma ci dà il tempo per riuscire a trovare una soluzione per tutti mi sento di rassicurare i dipendenti della provincia di Teramo naturalmente in una situazione di questo tipo tutti bisognerà tirare un po' la cinghia Teramo sceglie il CIRSU il sindaco Brucchi dopo un incontro con i rappresentanti di Mote e Team ha ritenuto vantaggioso conferire parte dei rifiuti del capoluogo alla discarica di Grasciano del CIRSU vediamo dal mese di gennaio una parte dei rifiuti del comune di Teramo andrà al CIRSU sì questa mattina c'è stata una riunione nella mia stanza con l'amministratore delegato Ranalli e con il presidente del Mote Ruscitti perché c'è questa proposta del CIRSU di poter accogliere i rifiuti anche del comune di Teramo e quindi abbiamo stiamo valutando anche soprattutto la proposta economica perché è quella che ci interessa nell'ottica sempre di far risparmiare i cittadini teramani e quindi che proposta è stata fatta diciamo che la proposta comunque è concorrenziale rispetto a Casoni è chiaro che stiamo mettendo le due proposte in concorrenza come si deve fare in queste situazioni e quindi se le cose andranno così come previsto una parte dei rifiuti andranno anche al CIRSU l'intenzione dell'amministrazione è quella di mantenere comunque due strade aperte perché insomma la storia ci insegna che in passato se se ne dovesse chiudere una abbiamo sempre l'alternativa quale sarebbe l'alternativa al CIRSU? l'alternativa è continua ad essere Casoni quindi una parte dei rifiuti continueranno ad andare a Casoni anche perché la regione Abruzzo proprio il 23 di questo mese ha fatto una delibera che autorizza i comuni a portare i rifiuti al di fuori della provincia però il CIRSU è l'impianto di prossimità quindi è giusto portare i rifiuti nell'impianto di prossimità è arrivata proprio ieri l'offerta anche del CIRSU quindi stiamo valutando entrambe le offerte tutto però nell'ottica di un risparmio economico cioè le due offerte vengono messe in concorrenza il prezzo deve essere più basso e questo sarà finalizzato anche ad una riduzione dei costi quando riguarda la tariffa sui rifiuti per i cittadini colgo anche l'occasione per rispondere a Manola Di Pasquale che in un suo comunicato parla del discorso che il Comune di Teramo non ha mai ridotto la tariffa sui rifiuti vorrei ricordare a Manola Di Pasquale che nel 2014 è stata ridotta del 20% quindi o è disattenta o strumentalizza un po' io siccome a Natale voglio essere buono credo che sia disattenta però nel 2014 si è ridotta del 22% per gli opifici fino al 22% per gli opifici e dall'8-10% per i cittadini questo è il dato reale così come si è ridotta anche tre anni fa stiamo lavorando per ridurla ancora e questo è una delle strade che stiamo percorrendo solti quelli delle polemiche Capodanno senza botti a Teramo lo ha deciso il Comune con un'ordinanza firmata dal Sindaco Brucchi con cui si dispone il divieto di portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente domani e dopodomani Capodanno non si potrà accendere fuochi né fare esplodere petardi castagnole e altri botti la sanzione prevista per chi contraverrà questa ordinanza ammonta un massimo di 500 euro il maxi emendamento al bilancio della regione da 7,6 milioni di euro non è frutto della minoranza se non per 2,4 milioni e la precisazione dell'assessore regionale al bilancio Paolucci che rintuzza le polemiche sollevate da Forza Italia il servizio da Forza Italia accuse fuori luogo sul bilancio della regione che all'anima di guardare è più fragile e di finanziare lo sviluppo esordisce così l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci nel replicare alle accuse lanciate da alcuni esponenti degli azzurri innanzitutto sostiene Paolucci per la prima volta dopo tanti anni il bilancio di previsione e la legge finanziaria sono stati votati prima di Natale dopo che il DPFR era stato adottato a settembre permettendo una giusta fase di concertazione partecipazione e condivisione non è un dettaglio prosegue Paolucci questa circostanza ci permetterà una programmazione più agevole ed eviterà il ricorso alla gestione provvisoria in secondo luogo dice ancora Paolucci vorrei chiarire definitivamente un punto importante nel famoso maxiemendamento di 7,6 milioni di euro ben 5,2 milioni sono frutto del lavoro dei sei consiglieri della maggioranza e 2,4 milioni di euro della minoranza cui comunque riconosco un contributo rigoroso in sostanza quando si dice che la giunta avrebbe presentato alcuni capitoli a zero e il consiglio ha adeguato gli stessi ciò si produce in forza delle prescrizioni legate al disavanzo di 455 milioni di euro ereditato entrando nel dettaglio l'assessore Paolucci ha ricordato che la giunta regionale ha deciso di stare dalla parte delle persone più fragili e quindi di finanziare il sociale con una cifra notevole 37 milioni di cui 12 per sostenere i ticket la partita vera però si gioca su un altro tavolo l'attuale disavanzo di 455 milioni e conclude Paolucci va ripianato entro la legislatura noi non siamo in grado di farlo con risorse nostre serve una modifica al quadro nazionale per prolungare il tempo di ammortamento del debito su questo punto daremo battaglia a Roma e adesso una notizia di carattere sindacale la segreteria FIOM CGL di Teramo rende noto che ha presentato oggi il ricorso in appello alla luce della sentenza del Tribunale di Teramo del 21 ottobre scorso in merito al comportamento antisindacale dell'YKK Snap Fastners Italia S.P.A. di Colonnella nel frattempo fusasi per incorporazione nell'YKK Mediterraneo di Ascoli Piceno questo ricorso sulla base del fatto che nella fase processuale del giudizio dice la nota della CGL del giudizio di merito è stato completamente stravolto il decreto dell'11 settembre del 2013 in fase sommaria con la quale il giudice aveva riconosciuto il comportamento antisindacale dell'azienda YKK Snap Fastners Italia S.P.A. e conseguentemente aveva intimato la reintegra sul posto di lavoro in seguito al licenziamento del membro della RSU della FIOMCGL Luciano Impiccini e la ripetizione della procedura di mobilità per violazione del diritto di informazione all'organizzazione sindacale nella fase di avvio della procedura di mobilità in tutta la fase di consultazione sindacale prevista dalla legge la segreteria FIOMCGL di Teramo ritiene gravissima la sentenza del Tribunale di Teramo in quanto non si fonda su nessun elemento di fatto o di diritto secondo il sindacato ma si limita a definire il comportamento antisindacale dell'azienda non più attuale nonostante gli effetti lesivi prodotti all'organizzazione sindacale della CGL culminati con il licenziamento del rappresentante della RSU Luciano Impiccini e l'iscritto alla CGL Daniele Regoli pertanto la segreteria della FIOMCGL di Teramo auspica che nel giudizio di appello venga fatta giustizia in merito ad una sentenza meritevole di esposto dice ancora la CGL al Consiglio Superiore della Magistratura per la gravità degli effetti per la palese infondatezza e incoerenza con la precedente decisione del Tribunale di Teramo il 2014 per l'ambiente abruzzese è stato un anno difficile chiusosi malissimo con la sentenza di assoluzione per i veleni di bussi ma il WWF nel tracciare un bilancio pone l'accento anche sulla situazione critica dello stato di salute dei fiumi abruzzesi unico dato positivo l'aumentata sensibilità degli abruzzesi in difesa del loro ambiente il servizio l'Abruzzo è una delle regioni italiane ed europee con la più alta biodiversità ma questo patrimonio è messo in pericolo da scelte sbagliate così il WWF nel tracciare un bilancio sulla situazione dell'ambiente abruzzese nel 2014 e sottolinea che non è stato un anno facile per l'ambiente abruzzese dal disastro di bussi sul Tirino al rischio idrogeologico dal bracconaggio allo stato pietoso dei corsi d'acqua si sono confermati in alcuni casi aggravandosi tutte le problematiche ambientali che da anni colpiscono il nostro territorio il delegato regionale per l'Abruzzo del WWF Dante Caserta hanno sottolineato che è stato un anno veramente impegnativo il 2014 si è chiuso nel peggiore dei modi la sentenza di assoluzione al processo davanti alla corte di Assise di Chieti per la discarica di bussi è stato un vero e proprio schiaffo agli abruzzesi per quanto riguarda la petrolizzazione ombrina mare hanno ribadito è solo la punta di un iceberg è necessario che il governo regionale di concerto con le altre regioni interessate ponga la questione a livello di pianificazione nazionale e spinga per una politica energetica verso il risparmio i due esponenti del WWF hanno ripercorso tappe e criticità dell'ambiente abruzzese come la questione parchi e riserve con la vergognosa situazione hanno detto in cui si trovano i tre parchi nazionali tutti privi da anni dei consigli direttivi fino alle aree protette regionali a rischio paralisi c'è poi il problema dei fiumi l'obiettivo fissato dall'Unione Europea di raggiungere lo stato ecologico buono in tutti i fiumi abruzzesi entro il 2015 hanno ricordato appare ormai irraggiungibile a questo si aggiunge il tema del consumo del suolo poi di Tizio e Caserta hanno evidenziato come l'Abruzzo sia una regione senza pianificazione in materia di rifiuti di cave di caccia di energia e di tutela delle acque bisogna pianificare attraverso la partecipazione di tutti e poi un dato sicuramente positivo in conclusione è la crescita dell'impegno degli abruzzesi in difesa del loro ambiente domenica prossima 4 gennaio 2015 si svolgerà in centro storico a Teramo la decima edizione della fiera dell'Epifania il giorno dopo un neonato comitato eventi teramano proporrà la Peristrit Brulee vediamo sarà l'aria del Natale ma è appena nato a Teramo un comitato eventi che nonostante non sia stato ancora registrato ha già organizzato un appuntamento all'inizio del 2015 per la precisione il 5 gennaio si svolgerà in centro a Teramo una Peristrit Brulee l'iniziativa segue la fiera dell'Epifania giunta alla decima edizione che si svolgerà domenica 4 gennaio torno alla fiera dell'Epifania un appuntamento istituzionale speriamo di replicare il successo della fiera di San Berardo del 19 e poi il 5 abbiamo questo nuova diciamo nuova comunque sempre un aperitivo in strada con il Vin Brulee organizzato da un neonato comitato eventi teramano capeggiato da Fiorindo Narcisi a cui partecipano gli esercenti del centro storico ancora veramente sta nascendo fra ieri sera e stanotte è stato formato questo gruppo Fiorindo si sta impegnando per raccogliere le quote adesso registreranno questo comitato e forse riusciamo riusciremo io lo spero a fare quello che avevamo programmato cioè a dare ripetitività a un evento la decima edizione della fiera dell'epifania riserva grande attenzione quest'anno ai bambini sì quest'anno diciamo c'è la novità di avere intorno al duomo diciamo dei banchi proprio dedicati ai giocattoli cosa che in passato c'era ma in minima parte l'abbiamo un po' più messo in evidenza proprio per dedicare questa epifania proprio ai piccoli quanti saranno gli espositori in totale? circa 180 presenze dovrebbero anche diciamo aggiungersi qualcuno in più tempo permettendo logicamente si ribarisce questo appuntamento annuale proprio dedicato ai bambini ma logicamente dedicato poi anche agli adulti vedo ora il momento della rubrica di Giancarlo Farconi carta canta vediamo tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente poco cos'è via quando parlo di sinistra a destra ma cos'è la destra cos'è la sinistra destra a 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 sinistra basta 54esima puntata di carta canta con l'ingegner Fabio Fidanza dedicata alle donne perché io e Fabio siamo contro la violenza alle donne giusto Fabio? si ascoltiamo dovreste prendere esempio da quelle mogli di Atene che vivono per i loro mariti gli eroi e gli amanti di Atene tutto il giorno si son profumate lavatene latte e pettinate per essere amate se fustigate non piangeranno ma anzi in ginocchio imploreranno più dure pene catene raccontaci questo era Cico Barche Giolandia tradotto dal buone Eugenio Finardi ed è un pezzettino di una canzone che come abbiamo capito parla della violenza alle donne rifacendosi a come la subivano le donne di Atene argomento molto serio tradotto dall'as di Terme in maniera faceta quasi scusate il gioco oggetto recepimento protocollo interistituzionale per la creazione di un sistema integrato per 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 la violenza nei confronti delle donne purtroppo l'errore sociale civico quello che volete voi viene ripetuto anche all'interno della delibera il direttore delle politiche della salute della regione Abruzzo i direttori generali delle aziende sanitarie locali di L'Aquila Chieti Pescara e Teramo e la consigliere di parità regionale dell'Abruzzo per la creazione di un sistema integrato per la violenza nei confronti delle donne quindi si nominano due referenti che picchieranno le donne terramane carta canta previsioni per oggi in Abruzzo al pomeriggio coperto con locali deboli nevicate specie sui settori costieri nevicate al di sopra dei 0 metri inserate nella notte variabile con deboli rovesci di neve quota neve sempre sui 0 metri temperature in lieve diminuzione massime comprese tra meno 3 e 0 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 1 e 4 gradi sulle pianure adriatiche venti moderati o forti settentrionali mare mosso in provincia di Teramo giornata caratterizzata da cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con nevicate estese su tutto il territorio provinciale anche lungo i litorali temperature in ulteriore diminuzione massime comprese tra 1 e 4 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 2 e 5 gradi sulle coste gelate e diffuse venti moderati o forti settentrionali mare poco mosso o mosso grazie a tutti grazie a tutti la gente buona a tutti Grazie a tutti. La ripresa degli allenamenti ci sarà il 2 gennaio, quando i Biancorossi inizieranno a preparare il primo incontro del 2015, il big match dell'Epifania contro Lascoli. Intanto sul fronte mercato tramonta la pista che porta a Memette Temai, che è vicino a trovare l'accordo con la Juve Stabia. Salgono invece le quotazioni di Marco Criaco del Cosenza, giocatore che piace molto al tecnico Biancorosso Vivarini, che lo ha già avuto alle sue dipendenze ad Aprilia. Prima di effettuare movimenti in entrata però bisognerà sfoltire alla rosa cedendo i giocatori in esubero, cioè se il Raiocco è buon aiuto su tutti. Il basket di Serie B nello specifico. Ieri sera nel posticipo del lunedì al Palacastrum di Giulianova, la Globo Giulianova ha battuto la Golden Gas Senigallia con il punteggio finale di 77-70. Grazie a questa vittoria i giallorossi di Francani hanno chiuso nel migliore dei modi il 2014, interrompendo una striscia negativa fatta di quattro sconfitte consecutive. Una notizia di basket giovanile, la squadra Under 17 del Basketball Teramo ha vinto il torneo di basket giovanile presepe della marineria di Cesenatico. E chiudiamo con la pallamano. Le quattro squadre di pallamano della città di Teramo sono state protagoniste di questa seconda parte del 2014. Con questo servizio tracciamo un bilancio del rendimento avuto nei rispettivi campionati dai ragazzi e dalle ragazze biancorosse. E' tempo di bilanci per le squadre teramane di pallamano. In Serie 1 femminile a recitare la parte del Leone è stata la Globo Allianz Teramo. Le ragazze del general manager Roberto Canzio hanno chiuso l'anno al secondo posto in classifica. Davanti alle campionesse d'Italia dello Iomi Salerno e dietro solo all'Indeco Conversano, squadra strafavorita per la vittoria dello Scudetto, ma uscita clamorosamente sconfitta nello scontro diretto giocato al Palas San Nicolò nello scorso mese di settembre. Alle biancorosse che hanno 24 punti adesso mancano soltanto due punti per strappare matematicamente la qualificazione playoff e l'accesso alle coppe europee. Insomma la squadra di Settimio Massotti sta vivendo un momento d'oro. Quello stesso momento d'oro che è una categoria più in basso in seconda divisione nazionale sta vivendo anche il team Teramo. La squadra del tecnico Labbrecciosa ha chiuso il girone d'andata il 2014 al primo posto con sei punti di vantaggio su Pontigna e Cingoli, secondi in classifica. Un buon viatico in vista della fase ad orologio e del successivo concentramento interzone che le biancorosse dovranno quasi sicuramente andare ad affrontare. In campo maschile in Serie B ha ottenuto risultanti molto importanti anche la Lions Teramo. Dopo l'esordio negativo contro il Cuschieti, squadra da battere e attuale capolista del girone, i ragazzi di Settimio Massotti hanno ottenuto sette vittorie consecutive chiudendo il 2014 al secondo posto in classifica. Un bilancio strabiliante per una squadra che alla vigilia aveva come unico obiettivo quello di far maturare i tanti giovani presenti in rosa. Bilancio leggermente meno esaltante ma comunque ugualmente positivo per il team Teramo maschile. I ragazzi di Franco Chionchio hanno chiuso l'anno con sei vittorie e due sconfitte. Un bottino apprezzabile per una squadra che si era presentata in asse di partenza con l'obiettivo di ben figurare. Adesso tutte le formazioni si stanno godendo le meritate vacanze. I primi impegni ufficiali del 2015 ci saranno infatti soltanto nella seconda decade del mese di gennaio. Le squadre maschili torneranno in campo l'undici. Quelle femminili invece una settimana più tardi, il diciassette. Bene, è tutto per questa prima edizione. L'appuntamento con l'informazione di Teleponte si rinnoverà questa sera alle 19.15, sempre in diretta con la seconda edizione del telegiornale. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.